abbiamo tenuto sulle spine l'Atalanta fino alla fine fino al 3 a 1 se così si può dire anche se nel tentativo di rimonta finché il risultato è rimasto un po' in bilico abbiamo fatto sostanzialmente il solletico all'Atalanta siamo arrivati pochissime volte dalle parti di Musso quindi se così vogliamo dire cioè che c'è stata di fatto una partita fino al novantesimo però le buone notizie secondo me finiscono qui e seguendo come immagino abbiate fatto voi se non avete se non eravate allo stadio seguendo la partita su Dazon ho appena sentito il commento tecnico la chiusa del buon Fabio Bazzani che era in commento appunto live su Sampdoria Atalanta ho sentito dire quando giochi contro una squadra come l'Atalanta dai tutto hai poco da rimproverarti se perdi perché insomma è una squadra rodata lo sappiamo eccetera eccetera non sono tanto d'accordo non è questo il caso secondo me perché oggi si poteva fare meglio si poteva fare di più si poteva impensierire in qualche modo provare qualcosa per mettere in difficoltà l'Atalanta cosa che è successa un pochino nel primo tempo nel secondo tempo però si è vista solo tanta tantissima confusione poco idee raramente ho visto così tanto disordine nella Sampdoria in questi anni spesso era una cosa che veniva evocata gli anni scuola l'anno scorso magari con con Ranieri e insomma nulla in confronto a quello che abbiamo visto nel secondo tempo oggi di Manassi andiamo con ordine inizio come ce l'aspettavamo con l'Atalanta che ti viene a prendere ti pressa tutto campo si lascia scoperta la profondità punta tutto sui duelli su uno di questi duelli con l'aggressione di Palomino su Caputo e la profondità lasciata alle spalle dal difensore argentino dell'Atalanta la Sampdoria ha trovato l'1 a 0 col gol di Caputo appunto bravo in quell'occasione dopodiché il punto debole della Sampdoria del primo tempo è stato il mezzo spazio per dirla con un gergo forse troppo tecnico ma insomma quella specie di corridoio intermedio sulla sinistra diciamo nella posizione tra Murru e Collei e dietro ad Aschilts in quel triangolo lì si andava spesso ad infilare Malinowski che non siamo mai riusciti a prendere e non a caso da lì sono arrivati sono arrivate le azioni dei due gol dell'Atalanta che arrivava comodamente sul fondo e a crossare Zapata ha fatto sostanzialmente un gol e mezzo anche se il primo è per gli archivi un autogol di Aschiltsen e non è un caso credo che poi quando però i buoi erano già un pochino scappati comunque se non altro siamo riusciti un po' a raddrizzare la barca e a restare in partita Daversa ha cambiato modulo era partito con un 4-4-2 con Candreva esterno sinistro e Torsby esterno destro di centrocampo Gabbiadini che ha avuto punte e scivolato verso un 3-4-1-2 un 3-5-2 con Yoshida a fare il difensore centrale Dragusing e Collei difensori diciamo braccetti dalla difesa a tre e in quel modo Collei riusciva a prendersi Malinowski quindi riuscivamo a pareggiare i tre dell'Atalanta con Yoshida che a quel punto è andato sostanzialmente a uomo su Zappata giocando peraltro una buona partita secondo me al netto della brutta figura che ha fatto sul gol del 3-1 al 95esimo sul gol di Ilicic. Collei andava a prendere Malinowski e Dragusing si accoppiava con Pasalic. Siamo rimasti in partita nel secondo tempo però quando c'era da provare ad organizzare una reazione non si è capito bene cosa sia successo nel senso che è entrato Chabot alzando Collei a fare il laterale a tutta fascia per qualche minuto. Soluzione decisamente inspiegabile mi risulta fosse disponibile De Paoli mi pare di averlo visto in panchina e lui è un laterale di ruolo è un destro ma mettiamo la sinistra perché no ma comunque insomma qua vale il solito discorso di vede daversa in allenamento non io e quindi avrà avuto le sue ragioni poi ha messo Ciervo che ha provato a dare un po' di prima insomma niente di che però abbiamo visto insomma un unico copione e anche fatto male cioè la palla lunga per Torsby che ha fatto la solida partita gigante di duelli aerei vinti in una metà campo nell'altra eccetera però lo abbiamo cercato male e anche quando lui è riuscito a vincere quei duelli raramente siamo andati con efficacia sulle seconde palle che arrivavano dai suoi stacchi aerei e ovviamente l'Atalanta ha capito perché si vedeva era palese che quello era il nostro unico schema e quindi pur sapendo diciamo accettava il fatto di perdere i duelli aerei con Torsby andava sulle seconde palle ci arrivava prima insomma non è veramente mai andata in difficoltà un piccolo rimpianto che possiamo avere ma riguardo il primo tempo è l'occasione che ha sprecato Caputo per il 2 a 2 per me è più errore suo quello per quanto mi sia molto piaciuto Caputo nel primo tempo continuo a credere tantissimo nell'attaccante pugliese che deve essere una risorsa per questa squadra continuerò a dirlo però per me quello è un errore suo più che un capolavoro di Musso poteva andarci un po' più cattivo l'attaccante arrivato dal Sassuolo che invece è stato bravo nella corsa e nel diagonale che ha sbloccato la partita non so se è stato una causa o un effetto del secondo tempo difficile l'uscita dal campo di Gabbiadini che nel primo tempo forse non ha fatto una partita brillantissima però oggi ci ha dato un indizio una prova di come sia necessario nell'attacco della Sampdoria fare da raccordo tra il centrocampo e l'attaccante e la punta perché se gioca lui gioca uno tra Quagliarella e Caputo andando a logica proprio l'occasione che ha avuto Caputo il possibile 2 a 2 con Musso nasce da una gran palla da una gran giocata di prima di Gabbiadini che sorprende le marcature dell'Atalanta e in buca in mezzo ai due centrali liberando Caputo nella sua zona preferita quando è uscito Gabbiadini la squadra si è totalmente spaccata in due si è spalmata su 93 metri di campo e se è vero che la Sampdoria ha avuto il merito di tenere la partita viva fino al 95esimo è anche vero che questo è successo principalmente per demeriti dell'Atalanta nel concretizzare e segnare il 3 a 1 che è arrivato soltanto al minuto 95 ne ha avute di occasioni magari non limpidissime ma di azioni con presupposti molto molto chiari ne ha avute e non le ha sfruttate a dovere quelle cose che fanno arrabbiare gli allenatori Gasperini secondo me sarà arrabbiato su questo a noi interessa abbastanza poco se vogliamo prendere delle note chiudiamo con le note negative purtroppo spiace bocciare Aschilsen perché credo che l'autogol sia la cosa meno grave che ha fatto oggi ha perso un sacco di palloni in modo più o meno gratuito si è dimostrato non all'altezza di questo tipo di partite che fortunatamente forse nel campionato italiano non capitano spessissimo la prossima sarà una di queste perché Torino insomma lo sappiamo ci aspetta una partita simile a quella di oggi contro la squadra di Juric che ieri ha messo molto in difficoltà il Milan Aschilsen è rimasto sommerso dalla fisicità del centrocampo dell'Atalanta note positive pochine direi Dragusin che ha giocato una partita di autorità bravo in anticipo un paio di volte nel primo tempo bravo nelle coperture nei recuperi ancora forse un po' timido in fase di impostazione ma non gli si può chiedere di essere Beckenbauer da un giorno all'altro va bene così una risorsa in più che peraltro ci permette di scivolare anche a livello di modulo di sistema di gioco un po' come Berezinski può fare sia il terzo dei tre difensori dietro se giochiamo a tre sia il quarto della difesa a quattro un pochino più bloccato sostanzialmente insomma all'inverso di Berezinski ma va bene è una risorsa in più che servirà non mi dispiace neanche Chabot oggi entrato e anche come entrato con lo Spezia però secondo me tra oggi e venerdì scorso portiamo a casa tre punti ed è un bilancio che alla fine può essere fisiologico nel senso che tutto quello che veniva di più da queste due partite era grasso che sarebbe stato grasso che cola ne sono arrivati tre va bene dal punto di vista delle prestazioni secondo me sono passi indietro passi indietro anche rispetto a Cagliari cioè la Sampdoria mi è piaciuta meno oggi meno con lo Spezia rispetto a Cagliari dove al netto di qualche disattenzione la partita l'ha provata a fare ha provato a proporre pur con errori disordini eccetera eccetera quindi appuntamento a sabato allo stadio di Torino contro la squadra di Ivan Iuric per Torino-Sampdoria e sarà un crocevia importante perché se è vero che adesso forse il calendario a livello di avversari impossibili ci lascia un po' in pace però bisogna iniziare a far punti presto